pace bene cari fratelli e sorelle continuiamo il nostro cammino nel vangelo secondo marco oggi incontriamo il secondo annuncio della passione da parte di gesù e l'inizio di un discorso comunitario cioè una serie di istruzioni che gesù dà ai discepoli insegnando loro e quindi a noi come vivere le relazioni fraterne nella comunità e nei confronti degli altri andiamo al testo gesù per la seconda volta annunzia ai discepoli la sua prossima passione e diceva il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini questi lo uccideranno ma egli una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà ecco i discepoli ci dice marco che non capivano quel che diceva e avevano paura di interrogarlo ecco i discepoli non capivano perché gesù parlasse di morte di andare a gerusalemme ed essere consegnato ovviamente era tutto un po oscuro per loro ma non solo non riuscivano a capire forse anche da un altro punto di vista non volevano capire infatti non gli facevano domande un biblista disse della comprensione fa parte l'interesse la partecipazione totale l'impegno chi vuol tenersi lontano da una cosa se ne distanzia e dunque non vuol comprendere e nella spaccatura di questa distanza subentra l'angoscia che rende muti che reprime persino le domande che a quanto si dice non costano nulla vedete questo è un insegnamento molto bello anche per noi quante volte quando una cosa non ci conviene preferiamo far finta di nulla quante volte se una cosa non ci torna o ci preoccupa o ci spaventa ce ne teniamo a distanza quante volte la paura gioca da padrona pensate ad una scena che sembra poco ma è emblematica quante volte se c'è una persona a terra che sta male tutti passano dritto c'è pure chi filma ma nessuno gli si avvicina o ben pochi per paura ecco i discepoli si tengono lontani dal signore ancora non capiscono sono lontani dalla mentalità di gesù e dal suo disegno di vita d'amore a questo punto inizia un discorso comunitario che durerà fino al versetto 50 oggi vediamo il primo insegnamento strettamente legato a quanto appena detto i discepoli discutevano tra di loro di che cosa di chi fosse tra loro il migliore chi presiede chi comanda se gesù se ne va chi prende il suo posto chi è il più grande tra di noi ecco a noi potrà farci sorridere ma questa domanda ce la portiamo dentro sin da piccoli specie se siamo cresciuti in un contesto dove ci siamo sentiti amati a merito e viceversa quanti rischiano di vivere anche la fede come prestazioni per sentirsi bravi e non lo fanno per cattiveria neanche se ne rendono conto sotto sotto cercando di essere riconosciuti apprezzati valorizzati e se non lo fai ci restano male così tendiamo a misurare tutto e tutti in termini di bravura presenza prestazioni cose fatte tendiamo quindi a guardare gli altri distorto temendo che ci possano soffiare il posto e così elaboriamo stratagemmi intessiamo alleanze per non sfigurare o per abbassare qualcun altro pensando e sperando che i più grandi possiamo essere noi fino a quando la realtà ci dice che non è così e allora o facciamo finta che non ci interessi e fingiamo oppure diventiamo arrabbiati e frustrati l'invidia comincia a roderci dicendo a noi stessi che è stata solo una questione di fortuna o che è un'ingiustizia e l'altro diventa così un nemico e noi viviamo sempre in competizione sotto giudizio di dio e con gli altri è interessante perché i discepoli parlavano di tutto questo ma non con gesù non alla sua luce tant'è che con lui non ne parlavano quando gesù gli chiese ma di che cosa stavate parlando nel cammino loro tacciono perché perché sanno che non erano sulla sua stessa lunghezza d'onda è un po come accade anche oggi si chiacchiericcia alle spalle ma non se ne parla con ad esempio un responsabile o chi guida la comunità perché perché in fondo lo si sa che quel modo di fare non va allora che succede guardate la bellezza del signore che con tanta pazienza educa e ci educa prende un bambino e lo pone in mezzo a loro lo abbracciò e disse chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me e chi accoglie me non accoglie me soltanto ma anche colui che mi ha mandato bellissimo gesù anzitutto prese tra loro un bambino e lo abbracciò a noi subito viene in mente l'aspetto della tenerezza ma c'è molto di più il bambino nell'epoca del signore non aveva posto nella società era considerato diciamo così un mezzuomo un uomo mancato senza diritti e senza valore non aveva il diritto di farsi sentire e di fronte alla torà alla legge non aveva meriti fine dodici anni quando entrava nella comunità degli adulti e poteva accedere al culto e ascoltare e commentare la torà possiamo dire che non aveva valore quindi gesù sta iniziando a cambiare la mentalità e lo stile dei suoi discepoli prende un bambino e lo abbraccia come a dire la bella notizia che il regno di dio è dato a tutti soprattutto a chi è trascurato a chi è ultimo pensate che allargando il campo il termine paidion che è usato qui in greco può riferirsi non solo al bambino ma a tutti coloro che vertono in una situazione di debolezza fisica o psicologica dunque tutti specialmente coloro che hanno più bisogno delle attenzioni da parte dei responsabili della comunità e di ciascuno di noi gesù possiamo dire che davvero ci invita a cambiare sguardo cioè piuttosto che vedere l'altro come un nemico come qualcuno con cui competere ci invita a scoprire il bisogno dell'altro di essere amato e di essere abbracciato ogni persona anche ogni avversario che secondo noi è tale porta dentro in fondo la fragilità di un bambino se la smettessimo di gareggiare per essere meglio degli altri e iniziassimo a servire di più gli altri staremmo tutti meglio e sarebbe già un pezzo di cielo sulla terra che quello che siamo chiamati a costruire come chiesa chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome cioè come se accogliesse me accogliendolo con amore per amore mio accoglie me capite che cosa grande è interessante perché gesù richiama l'importanza di accogliere l'altro nell'ambito dei rapporti intra ecclesiali cioè qui gesù sta puntando alla qualità delle relazioni innanzitutto tra i discepoli tra di loro nella comunità e poi tutto questo ovviamente diventa relazione verso gli altri e apertura verso gli altri cioè accogliere tutti nel nome di cristo riconoscendo in loro cristo desiderando portarli a cristo il signore ci chiama a gareggiare nell'abbracciarci nell'andarci incontro nell'accoglierci nel suo nome che il buon dio vi benedica pace bene a tutti